ragazzi ragazze amici e amiche bentornati ci troviamo di nuovo qui su big ambitions stiamo con il nostro pipino si esatto togliamo il tasso di pausa e come detto nello scorso episodio dobbiamo andare a fare una cosa controlliamo quanto costano le auto in vendita detto questo ragazzi io vi ricordo di lasciare come sempre un bel like l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatta attivare la campanellina è sempre molto importante ora andiamo nella nostra onza mimica al 9 per cento o la ripariamo o la vendiamo non ci sono via di uscita allora se non ricordo male bla 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 dove stanno perché non vedo mai quello che mi serve allora vediamo tra tattà di sapere articolari avanti negozi del concessionario di altro sono questi due sotto ok quindi dobbiamo semplicemente scendere e andare dalla parte opposta ovviamente dobbiamo stare attenti perché ragazzi ovviamente la nostra onza mimics ci sta salutando forse dovremmo stare nelle nostre in attesa e non fare queste cazzate ma l'angolo di pping e sporco devo pulirlo vabbè ci andiamo dopo dopo ragazzi fa niente fa niente vediamo un attimo intanto di arrivare dove dobbiamo arrivare a ok un era e un era lì dietro speriamoci qua allora a di ferro l'ikea vabbè parcheggiamo ok chiudete a tre ore ma possiamo ok questi sono tra quelli sono camion 98 mila dollari il camioncino invece quanto viene 6.000 sapete che non credo sia impossibile comprare macchine a questo punto quindi l'altro l'altro negozio dove si trovava a dietro 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 potremmo forse parcheggiare qui city cars mentre l'altro ok l'altro era per altro tipo di macchina vediamo questo utilitario la missam villian 22.000 cazzi l'orci desert 6.000 la onza una onza mimic nuova ci costa 2.500 una una vord tiara 11.000 e il gippone 44.000 wow ok un po troppo credo che andremo a riparare il nostro mezzo a questo punto spenderemo un sacco di soldi perché spenderemo un sacco di soldi però diciamo che rientreremo della spesa abbastanza e fretta perché comunque guadagniamo 600 dollari al giorno quindi capite bene che si costa mille non è un problema allora andiamo a mettere intanto mi sembra che era di qui il sì esatto imposta destinazione prima di andare di però ragazzi dobbiamo andare a riparare nostra riparare scusatemi a pulire il nostro negozio che è l'angolo di pigno quindi ok il nostro primo negozio dove tutto ebbe inizio è così non mi sembra così sporco sinceramente puliamo ovviamente dove la gente si ferma di più non vedo l'ora di assumere qualcuno che pulirà poi in autonomia i negozi in questo momento non ce lo possiamo permettere quindi è un risparmio ovviamente con ingresso forse 99 99 ok perfetto ma il tizio dove è andato ma questo ma che cazzo l'angolo di pigno soddisfazione 19 per cento per motivo ma perché non tra i 30 di 50 ore settimanali allora lui lo faccio lavorare di più allora guardate bits man pp snack calendario aperto anche la domenica 50 ore settimanali quindi ok 9 18 17 da sei quasi ok un po meno magari facciamo otto facciamo otto ore diremo questo lavora otto ore senza pausa dalle nove le diciotto e lui dovrebbe avere quindi tutto c'è adesso con i giorni in più no però per otto ore no no lasciamo 9 ore lasciamo comunque 9 ore quindi dalle 9 alle 18 io non so se l'orario conti qualcosa 63 ore settimana quindi perché forse è troppo adesso è troppo chiede di meno lui vediamo tra le 30 e le 50 chiede di meno chiede di meno mannaggia lui ai 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 tra le 30 e le 50 quindi vediamo che così eh chiede addirittura meno ancora eh oh te lo fai andare bene ragazzo te lo fai andare bene ok potremmo però potremmo fare una cosa molto più seria invece guardate facciamo le cose fatte bene non è ora comunque tutti i giorni la domenica facciamo solo 4 ore solo la sera apriamo le 14 anzi apriamo le 15 fino alle 20 fino alle 15 alle 20 no però lui non vuole gli orari serali gli orari serali cosa intende tra le 18 e le 22 però è bassa serve a tempo pia tra le 30 e le 50 però lui così è ancora oltre 52 allora facciamo che ok così può andare bene due ore del cazzo ma vabbè fa niente io direi che tengo aperto anche la sabata e la domenica ragazzi io direi che tengo aperto anche la sabata e la domenica perfetto mentre l'angolo di pipigno a tempo pieno alta dalle 30 e le 50 vediamo un attimo bizman negozio di regali ma calendario sono 48 ore allora siamo anche così ma andiamo a mettere la domenica un paio d'ora anche lui perfetto così ci siamo così teniamo aperto un po' di più allora dobbiamo andare al manetto in gas ok andiamo a riparare la nostra onza mimica perché è veramente poraccia ci costa un sacco di soldi ma vabbè così facendo dobbiamo anche ottimizzare io non voglio assumere un'altra persona fatemelo sapere magari nei commenti perché comunque questi episodi non vengono registrati con troppo anticipo quindi me li tengo diciamo per anche per avere qualche feedback in più da parte vostra why not vediamo quanto mi chiede ora micchia a 1100 dollari vabbè non ripariamo la macchina e cerchiamo di tenerla quanto più possibile al 9% significa veramente stare molto attenti ok allora a questo punto che la giornata è finita ragazzi potremmo andare in esplorazione della città domani why not per esempio se noi apriamo la nostra mappa questo ci potrebbe ah potremmo andare a fare un giro all'aginzione delle entrate e dove non siamo andati è un negozio per articoli per ufficio giusto per farci un giro ragazzi c'è una c'è c'è l'enoteca il fiore eh ok le gioiellerie quasi sono agenzia di sviluppo web ce l'abbiamo davanti fatemi vedere ma cosa intendono con agenzia di sviluppo web parcheggiamo qua no non voglio vendere no 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 ma mi chiedo mi chiedo ma ci si può finanzarsi in questo gioco ah no ok non possiamo entrarci comunque è solo o forse non è questo no non è questo di proprietà di Larry Larry Ralph Corporation ok ah ma è aperto volendo uno può andarci chissà cosa succede figata cosa puoi fare nell'agenzia di sviluppo web bella domanda bella domanda allora andiamo a fare un po' di esploro no andiamo a casa a mangiare qua l'exploro qua l'exploro merda 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 ok uff uff devo stare attento la onza l'ho sfruttata troppo si ma questi qua si fermano a un centimetro ragazzi veramente cioè tutte le volte ho il panico ho veramente il panico andiamo da five caps prendiamo lattina di no un cornetto una tazzina di caffè la madonna quanta coda mangiamo qualcosa questo non so se ci fa rimanere felici non ne ho idea non ne ho idea magari potremmo pensare di mettere un un altro ma no io credo che entrambe le attività siano al loro top cioè dobbiamo iniziare a mettere qualcosa di diverso per guadagnare di più ma zio fred c'è chiesto di ottenere solo un profitto di mille quindi suppongo che con quello che abbiamo dentro possiamo guadagnare mille lo suppongo veramente peccato che non mi ci faccia sedere peccato che non mi ci faccia sedere peccato veramente negozio di abbigliamento potremmo andare a negozio di abbigliamento una mattina potremmo guarda giochiamoci un po' facciamo qualche partitina alla play al pc stop playing due orette why not mangiamo del cibo surgelato e andiamo a netto ci svegliamo domani alle 9 alle 8 tanto vediamo quanto abbiamo guadagnato 5,96 vedete io credo che siamo arrivati a un limite no questo just jeans a che ora apre? alle 10 ok ok è un problema perché così ma non penso possiamo mettere tanto altro nelle nostre attività perché alla fine della fiera la soddisfazione è il 50% per entrambi e a pipino se ne è che guadagniamo veramente poco guadagniamo veramente poco dobbiamo promuovere anche quello ragazzi eh sì dobbiamo fare il marketing anche lì vediamo la nostra l'altra attività come vediamo qui come funziona l'hamburger a fornitore nuove attività richiesta di mercato bottiglie di vino io ho un regalo economico sta scendendo e non è un buon ok classe superiore classe superiore ok l'economview eh vedete vedete che c'è il prestito che stiamo pagando 13.000 dollari di prestito non abbiamo investimenti non mi ricordo più cosa devo fare eh allora cosa devo fare ah forse ah ok da sì pipino snack marketing chiama pipino snack small ok mentre a questo punto per l'angolo di pipino la campagna di marketing l'annulliamo e facciamo quella medium quanto ci costa 250 al giorno porca puttana sperando che possa effettivamente portare un upgrade ci ci aspettiamo in linea di massima dovremmo riuscire a comprare la macchina a breve eh io poso le le borse di carta non qui ma nel mio negozio magari eh esatto esatto diamo una lavatina ah no pulizia al 100% andiamo a vedere se dal negozio di hamburger c'è bisogno di pulire nulla mi vieta di mettere le patatine qua ma le posso vendere insieme? il gioco non me l'ha detto non me l'ha specificato allora ho fatto la campagna più di marketing più costosa perché comunque il gioco me l'aveva detto dicendo nello scorso inizio nello scorso episodio dicendo che hai il c'è la possibilità di dover che tu debba spendere di più per fare le cose eccetera eccetera e e e comunque si ha il avevamo già fatto è sceso in popolarità quindi dobbiamo richiare banalmente dobbiamo spendere di più per richiamare per richiamare il il pubblico allora andiamo a vedere una cosa io voglio vedere il negozio gli articoli da ah l'agenzia delle entrate che vediamo dov'è eh negozio articoli per ufficio allora andiamo in questo facciamoci un giro da Yoko Tech e così possiamo poi andare diretti a quello dopo quindi andiamo sulla mappa la strada è sempre dritto al bivio sinistra destra sempre dritto poi a certo punto ce l'ha sulla destra quindi sempre dito bivio sinistra destra sempre dito bivio sinistra destra ok ok perché non mettere una una mini mappa in bassa sinistra dove non c'è niente in questo momento in cui poter dire merda merda non frena più in cui mettere esattamente dove stai andando no un gps alla gta ragazzi una minimappa alla gta banalmente ci sta non sarebbe nemmeno una cosa così strana passiamo prima che passino tutti e qui inizieranno ad andare a scatti ragazzi perché il gioco qui è pesante il gioco qui è pesante ragazzi eh sì vediamo se c'è modo di fare qualcosa non ci sono bug non posso opzioni vediamo un attimo ah la risoluzione è sbagliata però ragazzi ah è sbagliatissima comunque a scatti forse no no vedete eh no abbiamo risolto dobbiamo aver risolto eh qua dobbiamo andare a destra no 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 dritto 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 questo è il downtown quindi qui in teoria è proprio la parte di città bella grossa figata ecco yoko tech però dovrebbe essere questa quindi noi ci fermiamo qua oddio devo pagare ovviamente non mi fa pagare ce ne sbattiamo le balle eh proprietà privata ufficio disponibile eh no non è questo allora no è de oh no eh allora quindi ritorno in macchina prima destra prima destra devo far giro dell'isolato ok ne fatevo che le nostre attività vanno dobbiamo trovare il modo di velocizzare piuttosto il tempo perché c'è poco da fare capito io sono nel mezzo di quello che dovrebbe essere un tutorial posso fare qualcos'altro I don't know ma è ma bu ahio oh ok yoko tech è qua io trovo un parcheggio qui alla mia destra magari è pure gratuito figuriamoci paghi ovunque qua ecco le due come nella realtà ci sto vediamo cos'è ma non posso parlare con nessuno non posso parlare con nessuno è proprio una compagnia di di software ok classico ufficio pensavo si potesse fare qualcosa sinceramente ok ok è solo una cosa ok allora andiamo qui quindi è proprio arrivati sulla strada io direi che ci possiamo andare a piotti vediamo cosa vende il negozio per articoli d'ufficio così lo vediamo anche insieme ragazzi penso sia comunque una cosa bella da da fare insieme ah questo negozio è qua è proprio questo mister scott office supplies ah proprio diretto computer macchina del caffè ergonomica le sedie d'ufficio in rete sedie 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 le ovviamente ah bella la scrivania direzionale figa ah ok quindi banalmente vende questo ok va bene ok interessante ora togliamo anche il negozio d'ufficio e andiamo a vedere dov'è la recensione delle tratte ragazzi penso sia una sola c'è un solo ufficio suppongo per tutta la città avrebbe anche senso se fosse selezionata io non la vedo andiamo a vedere la chiesa dopo ma subito ma subito dovrebbe avrebbe senso fosse qui nella downtown nella party downtown la broadway eh si questo è broadway questo è central park e new york ovviamente ah eccola qua non l'avevo vista madonna allora andiamo a vedere la gestione delle entrate il posto a destinazione sarà bella lunga qua a quanto è guarda neanche troppo lunga la macchina dove l'ho lasciata ragazzi qua dietro mi stavo dimenticando e ragazzi perché io credo che questi episodi si possano affrontare così ripeto purtroppo bisogna solo attendere ora che venga generato un profitto di mille tra l'altro io non sono sicuro che posso generare un profitto di mille così credo io debba aprire un altro negozio ma non ho i soldi in questo momento dovrò aspettare di fare i soldi per poi vedere di provare ad aprire un altro negozio un house allora la strada più semplice è a questo incrocio girare a destra poi prima a sinistra e sempre a dritto lo passo non dovevo girare a destra qui assolutamente sì assolutamente sì merda ok brutto che non vedi dove sei molto brutto e vediamo cosa puoi fare cosa potremmo fare all'agenzia del elettore dobbiamo pagare le tasse ci dobbiamo pensare noi è veramente molto profondo per assurdo io mi aspettavo che a un certo punto iniziasse a scemare un po' la la mia come si chiama il mio il mio l'essere stupefatto di quanto è profondo questo gioco in realtà è un continuo allora alla prossima destra non questa è la prossima alla prossima destra andiamo dritti ce lo troviamo sulla destra ok c'è parcheggio qui sì starà ovviamente tutto a pagamento figuriamoci però ragazzi se giochi qua io io veramente no ma ma bucaiola no devono mettere devono assolutissimamente mettere un'altra un altro modo per vedere quanto guidi non si può così non si può così merda ho toccato la macchina davanti ma più o meno ho altre 5 dollari così regalati alla al comune chissà poi se lo pago meno ok queste sono delle entrate internal revenue service bank no dove vai stazione di pagamento delle imposte ok non puoi secondo me queste sono fischio che stanno che implementeranno non adesso c'è il l'edificio è segnato che sulla mappa come ma fine negozio di aredo luxo concept ragazzi ma che ma che cazzo sto guardando no vabbè ma io vabbè siamo all'episodio 7 e io sono ancora che scopro roba bravi ragazzi bravi 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 non vi prego vi prego mi inginocchio davanti agli idee degli sviluppo dei videogiochi non fottete tutto non fottete tutto sta roba qui la voglio subito ma nella mia vita però la configurazione del gioco scorpio sono anche oggetti di arte costosissima no vabbè ma raga ma io io lo devo lo devo spolpar lo devo distruggere questo gioco cos'è sta roba 116 no vabbè no 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 vai mona metti la roba tutto metti non voglio più sapere niente io sono io sono io lo so ragazzi io non lo so torniamo a casa che casa io voglio andare a casa la casa dove è sulla fifth avenue a un certo punto in incrocio della terza strada quindi questa è la settima contiamole semplicemente io ragazzi sono boh io io boh io boh c'è ogni negozio a seconda di dove si trova a roba diversa perché se tu vai downtown scusatemi se tu vai downtown quindi al centro centro città c'è la roba figa mentre all'esterno la roba un po' più cheap ok bisogna andare full commitment con certe cose e quando intendo full commitment intendo accettare che questi titoli siano così tanto simulativi che ci sia un po' di ripetitività ma ragazzi il l'approfondimento che ci hanno messo dentro è talmente ecco ok però se strusciamo sulle macchine non succede nulla vabbè l'importante è quello l'approfondimento di certi titoli è talmente profondo che merita veramente di essere di essere giocato fino in fondo giochiamo quattro ore questo ci dovrebbe aver fatto divertire molto e andiamo a letto e dormiamo fino a dieci ore insomma profitto totale è sceso tantissimo per quale motivo perché abbiamo le campagne di marketing attive perché costa averle oh mio dio bizman ragazzi 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 il profitto è negativo qua allora qui 100 dollari allora togliamolo perché ci costa veramente troppo ci ammazza i guadagni ci ammazza letteralmente i guadagni no ci ammazza i guadagni qua l'angolo di pifing invece va molto bene il marketing va molto bene il marketing l'indice di traffico è basso siamo comunque in una via non principale ok abbiamo un sacco di roba abbiamo venduto pochissimi regali come no non pochissimi regali costosi il prezzo posso aumentarlo o diventa un casotto perché il regale economico magari farlo a 22 non so se toccarlo questa roba qui sia non lo so questa campagna di marketing è pesante ma secondo me rientriamo molto bene sono abbastanza l'indice di traffico è uguale forse avevamo dovuto mettere il nostro pipino snack da un'altra parte perché è veramente basso l'indice di traffico prezzi pulizia però prezzi vedete proviamo ad alzare a 5 dollari l'hamburger vediamo se ce lo comprano ancora mentre per esempio l'angolo di pipigno che i prezzi è 100% chiaro causa una minera soddisfazione ma vabbè voglio dire servizio clienti avere dipendenti del servizio cliente altamente qualificato aumenterà questo valore vabbè ok proviamo aumentare il prezzo anche qua 22 e 50 non voglio esagerare troppo e pass forward al prossimo giorno ragazzi non vi faccio perdere tempo vediamo come va ok ragazzi vediamo quanto abbiamo guadagnato 374 sempre meno 698 queste sono le spese si possono posso avere un overview delle spese perché io il marketing per per l'altra attività l'ho tolto io ho anche aumentato i prezzi infatti guardate qua prezzi non possiamo aumentarli qui veramente è già al limite qua è veramente già al limite intanto dobbiamo andare a comprare gli hamburger quello lo farò ex video qua però i prezzi sono ancora al 100% quindi direi di aumentarli ancora a questo punto magari portare a 25 53 senza problemi il tutto le lattine di soda va bene così l'immagine profitto è molto più alto direi di spendere qualcosa di più nel lago di pipino fatemi sapere ragazzi nei commenti cosa ne pensate datemi qualche consiglio io adesso andrò a fare le varie cose che mancano noi ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi giorno 26 quasi un mese di attività il nostro il nostro pipino sta mettendo fuori mettendo via qualche soldino in banca probabilmente andremo anche cambiare la macchina a questo punto vediamo magari andiamo semplicemente a riparare amen e fatemi sapere magari nei commenti qualche consiglio io vi saluto ragazzi vi ricordo di lasciare come al solito like e commento se l'avete ancora fatto noi ci vediamo nel prossimo episodio con Big Ambitions alla prossima ragazzi grazie 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 Grazie.